24 ore di pagaiate per festeggiare 10 anni di attività, un'insolita maratona per i soci del Kayak Club di Oggiono che promuove uno sport sostenibile valorizzando anche le sponde del lago Brianzolo. Devo dei ringraziamenti, parto dall'inizio, dalla giunta Ferrari che ha creduto in noi, subito al trampolino di lancio e dalla giunta Narciso che crede ancora in noi, per questo diciamo società che è sempre in evoluzione. Oggi contiamo all'incirca 150 tesserati e stiamo recuperando ancora perché come sapete dopo questo anno e mezzo di Covid insomma non è stato semplice un po' per tutti, soprattutto per le associazioni perché è stato fermato anche lo sport. Presente alla manifestazione il sindaco Chiara Narciso e il sottosegretario regionale Antonio Rossi, uno che di Remi se ne intende. Una bella soddisfazione per me essere qui oggi a festeggiare i 10 anni di questa associazione che veramente ha saputo valorizzare il centro ma anche tutta quest'area rendendola particolarmente attrattiva. In questi anni hanno anche avuto modo così di far conoscere la canoa a tante persone che non lo conoscevano. Guarda oggi è una giornata stupenda se tu fai una panoramica di quello che puoi vedere quando esci sul lago è veramente spettacolare. Il sottolizzo sta ospitando Giacomo Perini, atleta paralimpico in preparazione delle Olimpiadi dei campionati mondiali di canottaggio. Durante un raduno della nazionale di canottaggio parolimpica ho conosciuto il presidente che anche lui è un nostro atleta della FIC parolimpica e mi ha proposto di venire qua perché avevamo delle gare importanti da preparare. Rispetto al Tevere, al fiume, questo è un lago molto allenante, l'atmosfera, l'ecosistema anche esterno è favorevole ad allenarci perché il lago è molto allenante e anche tutto il clima è molto positivo.